SILENTO 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 Puoi spiegarmi che diavolo sta succedendo? Drake non voleva portar via il tesoro dall'isola Sully Cercava di evitare che se ne allontanasse Cosa? E' maledetto o qualcosa del genere Oh Nate, per l'amor del cielo Ascolta, so che sembra folle Ma devi credermi SILENTO 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 Dio mio SILENTO 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 Quanta poca fantasia BACHEN LARED BACHEN LARED BACHEN LARED Avete una minima idea di quanto questo possa valere? Trovando il giusto acquirente Levantelo Levantelo Oh no Che diavolo è? Gesù Cosa sono? Sono gli spagnoli, Sarri Non sono mai andati via Dio mio Se quello lascia l'isola, devi fermarlo Io ti copro da qui Dio mio BACHENEMIA Sì! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no!